Tornano gli eventi con le manifestazioni tradizionali della Pasqua a Figline. Dopo l'apertura del luogo di cioccolato avvenuta questo pomeriggio in piazza Marsiglio Ficino, l'attenzione è tutta puntata verso l'appuntamento di domani mattina, il volo della Colombina. Il tutto inizierà alle 10.30 con un corteo composto dalle porte Fiorentina a San Francesco Senese e dagli sbandieratori dei borghi sestieri fiorentini che attraverserà il cerchio cittadino per poi concluire alle 11 nella collegiata per la Santa Messa. L'appuntamento con la Colombina è a mezzogiorno. Il volatile meccanico cercherà di percorrere il tracciato dal carro alla collegiata senza interruzioni. Questo rappresenta auspicio di prosperità delle missi. Un volo atteso dunque perché in questi momenti di forte crisi c'è bisogno di un segnale di ottimismo. Dopo la Colombina, che speriamo faccia il suo dovere, si terrà l'esibizione degli sbandieratori con alcune coreografie che coinvolgeranno anche le contrade. Anche questo sarà come di consueto uno spettacolo affascinante e molto atteso da tutti i figli in esso. Grazie a tutti!